Ciao bambini, rieccoci! Oggi, come vedete, ho buona compagnia nel preparare il video e, visto che siamo in tanti, prepareremo un gioco per giocare con tutta la famiglia. Prepareremo il gioco degli Shanghai, va bene, bimbe? Sì! Va bene? Ok! Per preparare questo gioco ci serviranno degli sticconi da spiego, tre pennarelli, uno grosso, uno blu e uno giallo e un foglio dove appoggiare. Iniziamo subito prendendo dei bastoncini e iniziamo a colorarli. Li faremo di tre tipi diversi. Allora, il primo lo faremo. Facciamo fare a Emma. Colora un pezzettino rosso. Un po' più lunghietto. E poi... E poi lo coloro anche tu, ok? E con il blu faremo un segno sulla parte finale, così. 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 E lo mettiamo ad asciugare. Ne prepareremo un altro, sempre blu in fondo. Così. Emma fai ancora un pezzo di rosso. E questa volta ci mettiamo anche il giallo in mezzo. Ci aiuti tu, Anna? Io. Fai tu un pezzo giallo? Vediamo. No, aspetta. Devi farlo in mezzo, eh? Appena Emma ha finito. Ok. Ok. E Anna coloro un pezzo di giallo col mezzo, così. Ok, Anna? Vai, vai, colora bene un pezzettino. Allora dammi che lo finisco io. Vuoi farlo tu? Sì. Tieni, colora ancora un pezzettino. Vabbè, lasciamo il foglio ad Anna che colora un pezzo giallo. Finisce il pezzo giallo. E noi facciamo il terzo, che questo lo faremo un unico e sarà la nostra regina del gioco. E la possiamo fare con una riga blu, così, che si attorciglia su tutto il bastoncino. Così, mamma. Perfetto, Anna, bellissimo, grazie. Così, fino in fondo. Ok. Allora, ricapitolando, abbiamo preparato un bastoncino così rosso e blu. E a questo segneremo un valore di due punti. C'è un bastoncino blu, rosso e giallo, che varrà tre punti. E poi c'è la regina, che varrà cinque punti? Facciamo cinque? Sì. Cinque punti. Allora, di bastoncini rossi, blu e gialli. E rossi e blu dovremo prepararne un po'. La regina, invece, come dicevo prima, sarà unica. Adesso questi li lasciamo ad asciugare. E vi faremo vedere come si fa a giocare, quali sono le regole del gioco, con i bastoncini che avevamo già pronti. Ok. Mentre Anna colora, noi magari ci spostiamo di qui, Emma. Allora, come prima cosa, si prendono tutti i bastoncini e si uniscono in un solo mazzo. Uno, due, tre. E li lasciamo cadere. Adesso lo scopo del gioco è prendere i più bastoncini possibili senza muovere. Parti tu? Ah, hai mosso. Quindi tocca a me. Uno. Oh, questi sono facili. Due. Tre. Quattro. Sono proprio fortunata. Cinque. Sei. Oh, ha mosso. Quando muovo, tocca a lei. Tieni di più. Due. Mosso. Hai mosso. Ora vediamo, tocca a me. Vai. Uh, col bastoncino mi posso anche aiutare per prenderne un altro. E così fino alla fine di tutti i bastoncini. Alla fine si farà il conteggio di quelli che abbiamo. Abbiamo detto che quelli con due colori valgono due punti. E quelli con tre colori valgono tre. Chi avrà la regina conterà cinque punti in più. Ora tocca a voi giocare, bambini. Ciao e buon divertimento. Ciao. Saluti, bimbi. Ciao.